. Belen e Stefano si abbracciano, il gossip è in prima pagina Abbracci e baci tra Stefano Dei Martino e Belen Rodriguez bastano gente per dedicare loro la prima pagina e annunciare quello che potrebbe apparire a prima vista come uno scoop che avrebbe del clamoroso E' una paparazzata classica quella che ha investito la coppia con l'argentina che ha rivisto il suo ex marito in occasione del compleanno di lei. Rapporti distesi tra i due e nulla più Un'emozione per sempre cantava Eros. Le immagini però inducono a pensare altro, ma si sa che tra Belen Rodriguez e Stefano Dei Martino non c'è più nulla a parte una stima reciproca e la forza di andare avanti per il piccolo Santiago . Un bene eterno per i due, anche se l'amore è ormai finito. Il settimanale Gente parla di passione soffocata ma viva . . Le fotografie che pubblichiamo sono talmente intense che non avrebbero bisogno di sottotitoli o commenti di da scalici. Sono la quintessenza dell'emozione. La più alta sensazione di intesa tra un uomo e una donna. Il primo giorno di scuola di Santiago. Ormai ex ma in ottimi rapporti, Belen Rodriguez e Stefano Dei Martino si sono riuniti ad inizio mese per un altro momento speciale, in nome dell'amore per il loro figlio Santiago Dei Martino. Il bambino ha iniziato la scuola e i due hanno deciso di accompagnarlo insieme all'istituto scelto per lui. . Sia Belen che Stefano hanno condiviso la gioia di genitori con i loro fan pubblicando immagini tenerissime sui social che mostrano il piccolo conzaino in stalla, mentre varca l'ingresso. Tutto è stato documentato ormai quasi un mese fa. .